Rimango nella mia idea, nel senso che non credo sia fondamentale arrivare settimi, è importante, sarebbe importante, importantissimo arrivare settimi, perché avremmo la possibilità anche col pareggio di passare il turno, però non è fondamentale e non è così scontato perché non dipende solo da noi. Quindi rimango nella mia idea che dovremmo fare di tutto per vincere, sperare, sperare di arrivare settimi, anche perché sarebbe, a prescindere da tutto, un grande risultato e poi affrontare i pre-off. Però se poi non arriviamo settimi, che succede? Non credo che nel nostro modo deve cambiare qualcosa. Dobbiamo avere coraggio nell'affrontare i pre-off, non dobbiamo partire come outsider o l'importante è passare un turno, anche se arriviamo ottavi, no, no, non cambia niente. La mentalità deve essere quella feroce di una squadra che vuole far bene. Stai pensando davvero di non rischiare Arrigoni e di confermare Birligea al centro dell'attacco? È un pensiero, è un pensiero costante, però non è una scelta, non è una decisione, bisogna vedere, valutare come stanno i ragazzi, come stanno un po' tutti, però è un pensiero perché comunque ci penso, devo essere onesto. Sono convinto anch'io che la Viterbese verrà qua per vincere, ne sono convinto perché comunque il mister è stato qua a Teramo e so che ha grande voglia e credo che la trasmetterà alla propria squadra, quindi credo che loro verranno qua molto motivati, anche se non hanno più niente da chiedere al torneo. Ci aspetta una gara difficile, la Viterbese è una buonissima squadra, io credo che la Viterbese abbia espresso molto meno del reale potenziale della squadra che ha a disposizione, perché davanti Tassi, Tunkará, Murillo, sono giocatori veramente eccezionali, anche a centrocampo, in difesa, hanno giocatori importanti. Grazie 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 Grazie